Anche in pandemia c'è chi dice no, in riferimento alla canzone di Vasco Rossi, calza a pennello per quei medici, tanti, che non cercano la polemica ma semplicemente continuano a fare il proprio lavoro, magari addirittura riuscendo, grazie a sacrifici e straordinari, a eseguire più interventi urgenti rispetto all'anno scorso, nonostante le conseguenze del covid sull'apparato sanitario. E' il caso della struttura complessa di urologia del presidio ospedaliero di Gorizia e Monfalcone, diretta dal dottor Fabio Vianello, il direttore dell'Urologia Isontina, infatti, ha scritto una lettera al presidente della regione, Massimiliano Fedriga, in copia all'assessore Riccardi e al numero uno di Asugi Poggiana, in cui si dissocia dal significato di manifesto di denuncia attribuito alla missiva inviata il 30 marzo dai direttori di urologia della regione e poi diventata di pubblico dominio. Quella, spiega, doveva essere una sorta di comunicazione interna nell'ottica costruttiva di trovare insieme soluzioni condivise per affrontare il periodo critico della pandemia. Detto questo, Vianello ha precisato come ci siano centri che hanno sofferto di più e altri di meno. L'Urologia di Gorizia spiega, nonostante il dimezzamento delle sedute operatorie e dei letti di indegenza, ha sempre continuato ad operare. L'ambulatorio ha sempre funzionato senza riduzioni, riaprendo pure quello di Monfalcone, chiuso sin dall'inizio della pandemia. Quanto ai casi più gravi, quelli affetti da neoplasia, la struttura è riuscita addirittura a fare meglio dell'anno scorso. Le tabelle parlano chiaro. Il numero degli interventi eseguiti a Gorizia e a Monfalcone per la patologia neoplastica uroteliale, quella più stressata dal documento manifesto a cui ci si riferisce, nei primi quattro mesi dell'anno sono stati 99 contro i 97 del 2020. Per quanto riguarda invece il numero di interventi per altre neoplasie urologiche, l'incremento è stato di 10 unità, da 23 del 2020 a 33 del 2021. Questo spiega Vianello perché abbiamo avuto la possibilità di dare maggiore spazio alla chirurgia cosiddetta maggiore rispetto all'endoscopia, per massimizzare i tempi d'utilizzo delle sale operatorie senza necessità di avere a disposizione molti posti letto. Un messaggio tranquillizzante a quanto scrive Vianello, che non significa però dire che tutto va bene, ma che per i pazienti gravi è stato garantito a Gorizia e a Monfalcone il massimo livello di cure possibile.